L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme come funziona la libreria Gigiplot per la generazione di grafici. Gigiplot tra l'altro è parte del Tidyverse, quindi con la library Tidyverse importa anche automaticamente Gigiplot. Utilizziamo i dati pubblicati da Piemonte sulle temperature medie, questo link che vi ho copiato in chat. Potete utilizzare download file anche eventualmente su Windows. La volta scorsa c'erano un po' di problemi, potete provare ad aggiungere questo virgola mod uguale WB che potrebbe risolvere i problemi, ma non è detto. A questo punto, primo passaggio, andiamo a leggere i dati. Ho aperto qui il file, che è un file Excel. Ci sono due fogli. Andiamo a prendere questo storico, quindi il secondo foglio. Ve lo allargo un po' così magari si vede anche meglio. Allora, i dati sono questi. Come vedete c'è una prima riga che non è una riga di dati, non fa parte dei dati tabulari. Il tutto parte dalla seconda riga. E sostanzialmente la riga 11 di nuovo è un qualcosa da scartare. Quindi, piccolo ripasso del primo passaggio della volta scorsa. Se noi andiamo a usare RedExcel, quindi LibraryTile vs LibraryExcel sono da eseguire. Il download da fare, io l'ho già fatto qui in locale. Quindi, di.temp, o meglio, di underscore temp, usando l'unitazione solita. E il file che ne andiamo con read.xl underscore xls. Il file. Una cosa che noi possiamo andare a fare è mettere un skip uguale a 1. Questo ci permette di saltare la prima riga del file, che è quella che non contiene le intestazioni, le colonne. e possiamo anche andare a dire quante righe andare a leggere. Quindi, se andiamo di qua, vedete che le righe da leggere sono quelle che vanno dalla 2 alla 10. Quindi, sostanzialmente, 9 righe. nmax uguale 9. Quindi, leggiamo e andiamo a vedere un'altra cosa che ho dimenticato è di mettere, invece, il foglio che è uguale al foglio numero 2. Quando andiamo a specificare il foglio, o mettiamo il numero d'ordine, di come compaiono nel workbook, oppure mettiamo il nome. Questo di.temp, se andiamo a stamparlo, contiene questi dati qua. Nmax uguale a 9, evidentemente, non ce li ha. Forse sono 8. Vediamo se... Così ci toglie l'ultima riga. Ok, perfetto. Quindi, nmax si riferisce al numero di righe di dati, quindi esclusa la riga di intestazione. Quindi, saltiamo la prima riga del nostro file Excel, leggiamo la riga di intestazione e poi leggiamo al massimo 8 righe di dati, che sono quelle che finiscono con i dati di Vercelli. Quindi, se andiamo a vedere nel nostro file Excel, l'ultima riga era quella del file di Vercelli. Ok? Quindi, lettura, domanda, questa tabella, vi sembra in formato tidy? Ovvero, una colonna per ogni variabile e una riga per ogni osservazione? Allora, no, sì... No... Bisognerebbe fare la colonna... Allora, opinioni divergenti, l'osservazione corretta, se avete più dettagliato, è l'ultima. Bisognerebbe fare una colonna anno, perché ovviamente 90, 91, eccetera, non sono nomi di variabili. Ok? La variabile in questo caso è la temperatura media, oppure la variabile anno. Ok? Quindi dovremmo fare un'altra trasformazione, ve la scrivo direttamente qua, così mettiamo tutto in un colpo solo, che deve prendere il nostro dataset, che in questo caso è molto largo, e allungarlo. quindi abbiamo un pivot long, il dato lo prendiamo, e qui andiamo a mettere i nomi delle colonne, che sono quelli che vanno dal 90 fino al 2019. Ok? C'è anche la colonna media 91-2015, che forse possiamo anche eliminare. Comunque, 1990, due punti, 2019. Names to uguale anno e values to uguale temperatura. Allora, ho messo dei numeri, i numeri di solito vengono interpretati come posizione della colonna, quindi qui dovremmo mettere un es character, dei numeri che vanno dal 90 fino al 2019. in questo caso me li prende come nomi di colonne, correttamente invece che come posizioni. A questo punto di tempo, vedete, ha le stazioni, la media, l'anno e la temperatura. Questa colonna media 91-2015, onestamente la possiamo tranquillamente rimuovere. Può essere la media di riferimento, ma ci interessa relativamente poco. quindi qui aggiungo un select, ancora prima di fare il pivot longer, meno e metto la media. Domanda, è sufficiente mettere 90 e 2015 tra apici? Non credo che lo prenda, nel senso che lo interpreta come il nome di una colonna, però possiamo facilmente provarlo. Allora, fatemi solo verificare di avere correttamente scritto il tutto. Ok, quindi abbiamo le stazioni, l'anno e la temperatura. se io qui, invece di scrivere S-character, scrivo non così, ma 90-2019 tra doppi apici, questo me lo prende come una colonna, quindi è probabile che mi dica la colonna non esiste. se io metto da 90 a 2019, ecco, in questo caso me lo prende. Quindi mettendo 90 e 2019, tra virgolette, mi prende il range numerico, però convertito in string. Attenzione, se io scrivo questa cosa qua, qui sotto, ottengo un array numerico. Qui è il pivot longer che vede che questi qua sono delle stringhe, le converte, cioè usa il range e poi le interpreta come delle stringhe. Ok, quindi non è la stessa cosa che andare a mettere 90-2019 in una variabile e poi passare lì la variabile perché in pivot longer li interpreta in maniera corretta. Però in questo caso pivot longer è flessibile, è intelligente e capisce che quello è un range da interpretare come stringhe e non da interpretare come carattere. A questo punto se questo è corretto, stampo di temp ed eseguo il nostro chunk e lo salvo così lo vediamo anche di qua. A questo punto abbiamo fatto la parte fondamentale di conversione andiamo a tra l'altro manca ancora un pezzo nel senso che l'anno è salvato come carattere mentre invece noi lo vogliamo andare a salvare come ragionevolmente un intero. Quindi posso fare un mutate anno uguale a as integer di anno è un po' più corretto. A questo punto lettura modifica. Secondo passaggio è visualizzazione. Quindi abbiamo fatto se volete una diversione nelle ultime settimane su R non parlando tanto di visualizzazione se non con le librerie con le funzioni di base a questo punto torniamo a parlare di visualizzazione e resteremo sulla visualizzazione sostanzialmente fino alla fine del corso dove la libreria fondamentale che utilizzeremo è ggplot e attorno a questa ne vedremo qualcun'altra ma sostanzialmente il punto di base è ggplot. ggplot è una libreria che ci permette di andare a disegnare dei grafici in maniera dichiarativa ovvero andiamo a dire cosa mettere nel grafico e come farlo non diamo delle istruzioni e soprattutto è basato su un concetto di grammatica nel senso che ci sono alcune componenti di quella che è la frase grafica che noi possiamo andare a costituire e questi componenti possono essere combinati in vario modo per cui dobbiamo avere alcuni elementi fondamentali una frase normale in lingua italiana di solito abbiamo soggetto verbo complemento oggetto e quindi questi tre componenti sono sempre presenti in ggplot il soggetto sono i dati ok il verbo è come questi dati devono essere interpretati in termini di caratteristiche grafiche e il complemento oggetto è sostanzialmente quale elemento grafico viene visualizzato per cui la funzione base di tutto si chiama ggplot ok il soggetto di temp quindi dati di temperatura il verbo è dato tramite questa funzione e ci dà sostanzialmente quello che è componenti dicevamo vedi elenco qua i dati diciamo il soggetto della nostra frase il mapping estetico se volete il verbo ok poi la corrispondenza non è esattamente quella perché non stiamo parlando di una frase ma giusto per e alla fine abbiamo un layer grafico che è il complemento oggetto quindi di cosa si tratta quindi il primo componente il dato è il primo parametro del del nostro metodo ggplot della nostra funzione ggplot poi abbiamo il mapping estetico e questo è il secondo elemento il mapping estetico ci dice sostanzialmente come devono essere interpretate le variabili che sono dentro il nostro il nostro dataset quindi possiamo andare a dire che x è uguale all'anno e y è uguale alla temperatura ok normalmente queste due caratteristiche estetiche sono sempre presenti nel senso che quando abbiamo un grafico siamo su un piano le coordinate x e y tendenze le medici sono praticamente quasi sempre dopodiché quindi soggetto e verbo sono sempre presenti dentro questa funzione ggplot i dati e il mapping estetico e poi andiamo ad aggiungere tutti gli altri elementi del nostro discorso della nostra frase e li concateniamo con il più attenzione abbiamo visto la pipe la pipe viene utilizzata per andare a fare le elaborazioni ecco nel caso di ggplot non utilizziamo la pipe ma utilizziamo il più perché sostanzialmente non è che ggplot produce qualcosa che poi viene elaborato ulteriormente dagli elementi successivi no sostanzialmente noi andiamo a mettere una serie di elementi dentro la nostra frase grafica e la loro combinazione descrive il grafico molto spesso l'ordine tra i vari elementi che io vado a mettere non è così vincolante quindi posso scambiare degli elementi quindi in italiano io posso mettere ad esempio nome e l'aggettivo li posso scambiare posso mettere aggettivo e nome o nome aggettivo anche qui io posso scambiare alcuni elementi descrittivi senza che cambia assolutamente il significato quindi vado a dire che sostanzialmente la mia frase grafica scusatemi ok abbiamo i dati e il terzo componente abbiamo detto è un layer grafico il layer grafico di solito viene descritto tramite una funzione di tipo geom che indica l'elemento geometrico che viene disegnato sul grafico quindi ad esempio geom point disegna dei punti quindi e questo è il layer grafico quindi i dati come questi dati devono essere interpretati in termini di caratteristiche visuali estetiche e poi l'aspetto grafico ovvero che oggetti grafici vado a utilizzare e questi verranno disegnati ovviamente seguendo le caratteristiche grafiche date dal mapping estetico se io vado a eseguire questo vedete che ho questo risultato c'è un warning qua in alto che dice sono state rimosse 25 righe perché contengono dei valori mancanti se io vado a vedere qui vedete i primi dati qua ci sono tutti ma se vado un po' avanti ecco vedete che ad esempio biella 90 91 eccetera non ha dei dati quindi ci sono dei valori NA li posso tenere così oppure nel nel chunk del precedente posso andare semplicemente a dire andiamo a eliminare queste righe allora domanda è possibile che stampi tutti gli anni sull'asse Y rendendo indecifrabile l'anno sì è possibile se non si fa l'ultimo l'ultima modifica che ho aggiunto prima io che è questo mutate di anno come uguale a as integer di anno se qui invece di fare di temp facessi invece di anno facessi as character di anno quello che ottengo è tutti gli anni sono stampati perché si assume che essendo quello una variabile tipo carattere deve andare a rappresentarli tutti quindi che cosa succede quando io faccio quest'operazione scusate lo ridisegno così lo rivediamo meglio fatemi aggiungere qua su in cima anche un filter not is na di temp quindi vado ad aggiungere oltre a questa conversione da carattere intero quest'altro filtro che mi dice togli tutte le righe che hanno tieni soltanto le righe che hanno la temperatura non na allora adesso andiamo giù e vediamo di risolvere i vari problemi che avete allora primo errore estetics must be either length one or the same as the data verificate qui di aver utilizzato i nomi delle colonne quindi anno e tempo ok poi germpoint missing estetic y se ti dice missing estetic è perché probabilmente qui non ha indicato la variabile y quindi devo andare a indicare la variabile x e la variabile y che sono due caratteristiche estetiche fondamentali per poter andare a stampare i punti nel senso che devo avere le due coordinate in cui andare a stampare il punto questi due x e y devono essere dentro questa chiamata funzione as che sta per estetics cosa vuol dire nmax uguale 8 nella riddxls dice che sostanzialmente vogliamo leggere al massimo 8 righe torno un attimo sull'excel così lo vediamo più chiaramente qui ci sono 8 righe di dati dalla 3 alla 10 la nona riga contiene questo che è sostanzialmente fonte arpa piemonte quindi con nmax uguale a 8 dico leggimi al massimo 8 righe così scarto l'ultima se no avrei dovuto fare un filter andando a togliere la riga che è estranea invece così evito di leggerla e lo skip sostanzialmente mi salta la prima riga mi dice leggimi soltanto dalla seconda riga e poi massimo 8 righe di dati a questo punto qua su io rieseguo ho tolto l'NA e qui sotto rieseguo e vedete che non mi dà più il warning perché non ho dei dati con l'NA con la temperatura a NA ok questo punto spero che più o meno tutti siate riusciti a riprodurre cosa succede quando io faccio queste operazioni allora dicevamo parto dai dati quindi ho i miei dati il passaggio successivo è potrebbero mettere tra tonde ho i dati poi ho un passaggio che è il mapping il mapping sostanzialmente mi dà delle caratteristiche estetiche estetiche e il dato associato quindi mi dà una caratteristica estetica più il dato quindi ho una variabile e quella variabile non è più una variabile a sé stante ma è una variabile che è associata a una particolare caratteristica estetica ad esempio la caratteristica estetica coordinata x è associata alla variabile anno dopodiché lo scrivo qua così si vede un po' meglio il passaggio successivo è quello di andare a fare lo scaling ovvero come faccio a interpretare quella variabile io in quella dichiarazione che ho scritto in alto non ho scritto nulla sulla scala la scala è stata dedotta in maniera automatica e in quell'osservazione che c'era prima il fatto che c'erano tutti gli anni se io la uso come carattere o ci sono semplicemente un range se utilizzo come un intero ecco lì vediamo in funzione la scelta automatica di una scala ovviamente io poi posso andare io esplicitamente a dire che scala voglio utilizzare però se non dico nulla mi viene scelta una scala che corrisponde al tipo di dato quindi se ho un dato di tipo intero ho una scala lineare e so che ho un certo intervallo quindi ho i dati che vanno dal 90 al 2019 e quindi andrò a mettere dei punti ogni 10 anni ok degli intervalli da 10 anni se invece il tipo di dato associato all'asse X è di un tipo di tipo carattere la scala che viene scelta automaticamente è una scala di tipo discreto quindi non è continua e una scala di tipo discreto prevede di andare a stampare tutti i dati se il dato fosse una data ecco che avrei una scala di tipo data con un certo tipo di intervalli ok il fatto che io lì gli intervalli li veda ogni 10 anni è perché di nuovo la scala continua automaticamente ha deciso di mettere quello come intervallo posso andare a ridefinire questo default però l'aspetto positivo è che senza fare nulla automaticamente la scala mi è stata scelta del tipo corretto dopo lo scaling e quindi ho il dato permettetemi il termine scalato posso avere un altro passaggio che però è opzionale ed è quello di diciamo del sistema di coordinate il sistema di coordinate ovviamente si applica soltanto alle caratteristiche x e y se io ho altre caratteristiche estetiche che sono il colore ecco quello ovviamente è assolutamente indifferente rispetto al sistema di coordinate ok in questo caso ho il dato scalato e coordinato una volta che ho questo quindi il dato semplicemente scalato il dato scalato è più piazzato in un sistema di coordinate allora le coordinate cartesiane sono quelle più comuni ma ovviamente noi possiamo avere anche un altro sistema di coordinate quelle predefinite ma ggplot è estensibile quindi potrei inventarmi delle altre sono delle coordinate polari quindi invece di avere i due assi ortogonali x e y non potrei avere una coordinata che è un angolo e l'altra coordinata che è la distanza dal centro ok modulo e fase o chiamateli come volete a questo punto viene tutto passato al quello che è il layer grafico o geometrico che prende quindi al suo ingresso una specifica posizione sul piano che è data dalle coordinate prima scalate e poi sistemate rispetto al sistema di coordinate prende altre caratteristiche e in base al tipo di layer il tipo di layer che abbiamo scelto in questo caso è un layer tipo punto va a disegnare i punti o le linee o quello che vogliamo all'interno del nostro grafico le cose che io devo mettere per forza sono il mapping ovviamente i dati il mapping perché altrimenti non sappiamo come interpretare le coordinate e poi devo andare a dire che tipo di layer grafico voglio per andare a disegnare voglio disegnare dei punti voglio disegnare delle linee ok non lo so e quindi questi tre elementi fondamentali sono come il nostro soggetto verbo complemento oggetto di qualunque frase ovviamente io posso andare a aggiungere delle informazioni per cui uno dei primi passi è quello della scala che mi dice come fare lo scaling ad esempio posso andare a dire che l'asse y è un asse che si basa che so su una trasformazione logaritmica quindi posso mettere scale y logaritmo di 10 più ok sono tutti collegati con il più a questo punto se io eseguo vedete che ho 10 non me lo fa chissà perché forse me lo fa scusate la temperatura in realtà è la temperatura è un double no sapete che forse lo fa solo che il logaritmo di 10 e il logaritmo di 14 cioè la distanza tra logaritmo di 10 e di 11 e logaritmo di 13 e 14 non è molto diversa per cui allora ve lo scrivo qua il logaritmo 10 di 11 meno il logaritmo 10 di 10 che ovviamente è 1 è 0,04 se faccio invece la differenza tra l'ogaritmo di 14 e l'ogaritmo di 13 fa 0,032 quindi la distanza che c'è la distanza fisica che c'è tra il 13 e il 14 è 0,3 e la distanza che c'è tra il 10 e l'11 è 0,4 se in effetti guardate con attenzione questo intervallo da 13 e 14 è i tre quarti dell'intervallo tra 10 e 11 quindi in realtà lo fa ma non essendo molto vicini questi numeri non non si nota qui posso andare a mettere mi pare si chiami range ok scale y log 10 limit posso andare da 1 fino a 50 ecco questo punto vediamo perché fa 1 3 10 30 e lo vediamo meglio ok quindi era semplicemente dovuto al fatto che erano troppo vicini per essere notabili ok però l'idea è che lo posso mettere in un qualunque momento attenzione io questo l'ho messo qua ma potrei tranquillamente andare ad aggiungerlo in fondo come ultimo elemento mettere qui ovviamente il più e il risultato non cambia minimamente di nuovo sto andando a dichiarare quali sono i componenti che voglio andare a mettere nella mia frase quindi il fatto che io l'aggettivo lo metta prima o dopo il complemento oggetto non mi cambia significato ok quindi posso andare a modificare la scala quello che posso fare e molto spesso succede posso andare ad aggiungere una nuova estetica aggiuntiva rispetto alla posizione x e y per cui copio il codice di prima così evito di riscrivermelo tolgo ovviamente il logaritmo e qui oltre a mettere x e y che sono la posizione posso andare ad aggiungere ad esempio color uguale e come colore vado a mettere stazioni quindi la stazione è quella che andrà a determinare andrà a essere mappata sul colore se torniamo sul percorso di prima abbiamo i dati il mapping quindi sappiamo che la colonna stazioni è quella che rappresenta il colore e poi c'è una uno scaling quindi se volete un'interpretazione del dato in termini di quella particolare estetica cosa vuol dire vuol dire che andrò a prendere o meglio il gplot andrà a prendere tutti i possibili valori di stazioni e a ciascuno di essi assegnerà un colore che colore beh ci sono dei colori standard che vengono messi automaticamente e ovviamente io posso ridefinire e quelli saranno associati a ogni stazione diversa da qui se io vado ad eseguire questo vedete che ottengo le mie stazioni ciascuna col colore per cui questo verde qui chiaro e quest'altro verde un po' più scuro corrispondono direi alle stazioni di Boves e di Cameri oltre al colore posso anche andare a mettere un altro un altro parametro che è la shape che è uguale a stazioni il warning ovviamente guarda che ci sono otto valori diversi di stazioni tendenzialmente quando io ho una palette più di sei non riesco a rappresentarne quindi fai attenzione che probabilmente andare a mappare su uno shape otto valori diversi non funziona in effetti qua tra l'altro Torino e Vercelli non me li visualizza perché il massimo numero di forme diverse che vengono trattate è sei l'alternativa ovviamente andare io a indicare esplicitamente quelle che sono i valori e qui togliamo il shape e li eseguiamo e salviamo ok possiamo anche andare ad aggiungere altri altri layer geometrici quindi se vogliamo aggiungere altre forme possiamo andare ad aggiungere che sono un layer con delle righe per avere i grafici delle nostre variabili collegati l'uno con l'altro copio questo e qui quindi posso aggiungere altri layer grafici quindi oltre a geom point vado ad aggiungere anche geom line che sostanzialmente mi mi traccia delle linee con criterio traccia delle linee ecco questo è il punto avendo definito un colore usa il colore come criterio di raggruppamento e quindi mi collega tutti i punti dello stesso colore con una linea se io non mettessi il colore non riesce a collegarmi le linee ok allora scusate non riesce a collegarmi le linee e mi collega tutte le linee passo passo quindi ottengo una cosa di questo tipo che ovviamente non ha senso collega punto per punto man mano che li incontra ok quindi quando ottenete qualcosa di questo tipo è perché non c'è un criterio di raggruppamento che può essere utilizzato per andare a disegnare delle linee quindi se io torno indietro e rimetto il colore ecco che ottengo il raggruppamento ovviamente sono otto colori diversi quindi comunque sono difficili da da identificare ok posso anche andare ad aggiungere altri layer ad esempio geom text è un layer che utilizza un attributo che si chiama label e lo utilizza per andare a scrivere un testo quindi ad esempio qui potremmo andare a mettere label uguale temperatura il risultato non è granché bisognerebbe ridurlo un po' però avete capito a cosa serve quindi lo tolgo perché è da personalizzare ok ah scusate devo togliere il text perché altrimenti mi dice che manca label ok allora a me dice che ogni gruppo ha una sola osservazione anche con color probabilmente dipende dalla versione di gplot quello che puoi fare allora se noi togliamo scusate ve lo faccio sotto e poi tu lo puoi aggiungere alla tua abbiamo detto che se io non metto le estrazioni come colore il risultato è sostanzialmente questo quindi ho un solo gruppo unico quello che posso fare è andare a specificare una attributo estetico che è il gruppo quindi se scrivo group uguale stazioni attenzione a utilizzare il nome giusto quindi stazioni che il nome di quella colonna e non stazione se io metto group il risultato è di andare a raggruppare quando deve fare le linee in base al nome della stazione che si trova nella colonna stazioni in versioni forse un po' più vecchie di gplot probabilmente non basta al colore ma devo aggiungere qua anche group uguale a stazioni e quello raggruppa tutto ok domanda come facciamo a mettere l'etichetta vicino a ogni linea allora sostanzialmente la domanda è come faccio a fare direct lab in modo da mettere il nome dell'etichetta qua è un passaggio successivo ok ci arriviamo nel senso che vedremo anche questi aspetti è un pochettino più complicato perché io devo andare ad aggregare devo andare a prendere l'ultimo elemento e dopodiché devo andare a disegnare in quella posizione ok a questo punto vediamo qualche altro layer grafico ne abbiamo un certo numero ma giusto per per darvi abbiamo ad esempio il genome boxplot che mi disegna un boxplot ovviamente tolgo il colore delle stazioni lascio semplicemente x e y e poi e vedete questo e qui in realtà il boxplot si lamenta dicendo guarda che l'estetica x è continua invece lui vorrebbe avere un qualcosa di discreto quindi qui fatemelo scrivere come factor che è più 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 compatto che scrivere s character eccoci qua finalmente abbiamo per ogni anno tutto l'intervallo delle temperature con punti che vediamo qua sotto che sono degli outlier il problema delle etichette che qua si sovrappongono è dovuto al fatto che normalmente quando in R viene generato un grafico le dimensioni del grafico sono standard io posso andare a modificare le dimensioni del grafico mettendo qua scusatemi le opzioni fig.width diciamo 10 fig.eight uguale 6 si va un po' per tentativi se vedete che sono tutte belle distanziate se è troppo ovviamente posso andare a mettere che so 8 e 4 tanto qui c'è un warning che non c'entra nulla allora per qualche motivo mi segnala rosso come errore ma il codice funziona correttamente vedete che qui sono ancora distinte sono un pochettino più più grandi e ho l'andamento ok c'è un ultimo passaggio in realtà c'è un passaggio intermedio nell'andare a fare questa serie di passaggi che è un altro passaggio che permette di andare a scomporre i nostri dati in modo da visualizzare non un unico grafico ma tanti grafici quindi il principio dei piccoli multipli quindi i piccoli multipli che in R si chiamano facet li posso andare a definire in questo modo quindi ho i miei punti le mie linee ho il colore e più vado a mettere una una funzione facet underscore wrap e vado a dire in base a quale variabile voglio andare a suddividere il mio grafico in tanti sottografici l'idea è che verrà generato un diverso sottografico per ogni valore diverso di questa variabile e ovviamente la variabile che si presta a fare questa suddivisione è stazioni posso anche togliere il colore perché a questo punto se vengono messe in grafici diversi a questo punto se lancio la sintassi prevede di mettere una tilde davanti e in questo caso vedete che ho i miei dati suddivisi in stazione per stazione in questo modo non ho tutti i dati accalcati in un unico in un unico grafico ma sono suddivisi ok non vi ho menzionato quassù quando ho parlato dei colori il fatto che io ovviamente posso andare allora i colori che vedete assegnati qua sono assegnati da una palette standard volendo posso andare io a scegliere una palette specifica allora domanda RStudio ha uno shortcut per la tilde non che io sappia alt 126 se avete la tastiera inglese io riesco a farlo con alt 5 o alt gr 5 qui Allora, domanda. Non prende fig with. Non li prende o ti segnala un errore? Non ho effetto, oppure segnala proprio un errore? Allora, attenzione a come li scrivi, attenzione a che ci siano le virgole, e scrivili correttamente, però da come li iscritti in chat erano corretti. Quindi messi qua, nell'intestazione del chunk, in questo modo. Grazie. Grazie. Può darsi che ci sia qualche barco da qualche parte, perché... Prova a riavviare. Allora, quello che puoi fare è fare un session. Restart R e run all chunks. E vedere se ti... Allora, questi... Se c'è qualcosa che non funziona, allora, riavviare tutto potrebbe essere una risposta. Chiudere e riaprire il file. Allora, vedete che a me, ad esempio, qui mi dà il rosso di fianco a questo chunk, che invece ha funzionato benissimo. Per cui, se io lo chiudo e lo riapro, a questo punto non mi dà più l'errore. Verifica che non ci sia qualche chunk precedente non chiuso. Altrimenti non saprei cosa... Quale possa essere il motivo. Grazie. 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 Allora, altra possibilità che il studio non sia in full screen. Questo è nuovo, però potrebbe essere anche quella una causa. Allora, prima di concludere oggi, visto che comunque non manca molto, proviamo a fare un minimo di elaborazione dei dati e andare a mostrare. Non tutti i dati... Ok, bene. Non mostrare tutti i dati, stazione e prestazione, ma andare a fare una media anno per anno. Quindi, mostrare la media delle temperature anno per anno. Allora, non abbiamo di temp, ma ovviamente dobbiamo andare a prendere di temp e andare ad aggregarlo. Possiamo fare un group by per anno e andare a mettere un sumrise temperatura uguale a media delle temperature. e poi possiamo usare la pipe per evitare di metterlo, di ripetere il valore. ovviamente il colore delle stazioni a questo punto non c'è più, perché stazioni non c'è. vi stampo, vi eseguo tutto questo fino all'ultima pipe, giusto per poi vedere il risultato. Vedete che il risultato ha l'anno e le temperature. A questo punto, se eseguo tutto, passo quello a la mia media di temperature. Quindi, sostanzialmente, siamo passati da 11 gradi e mezzo di media del 1990 a 13 gradi e 6 e 7 nel 2019. Quindi, un aumento di 2 gradi della temperatura media nel giro di circa 30 anni. a questo punto vado a prendere un attimo questo la tabella 1, scusate, il foglio 1 del nostro file vedete che ha la temperatura massima e la temperatura giornaliera nei vari mesi per a livello regionale e a livello dei vari comuni insomma, sostanzialmente i comuni di prima. Allora, esercizio per casa andare a leggere i dati che ci sono qua e andare a realizzare una serie di grafici utilizzando diciamo le coordinate polari dove l'angolo è indicato dal dal mese e la distanza è indicata dalla temperatura andando a rappresentare per ogni inizialmente per la regione temperature massime e temperature minime e successivamente andando a rappresentare la stessa cosa con tanti multipli uno per ognuno dei comuni vi posto tra poco su su Slack un esempio del grafico che dovreste ottenere a questo punto breve riepilogo di quello che abbiamo detto abbiamo detto che l'obiettivo è di andare a utilizzare il ggplot che è la libreria base che utilizzeremo d'ora in poi per andare a disegnare dei grafici come sempre c'è una fase iniziale di lettura dei dati ve la scrivo per bene la consegna ok ve la scrivo bene su Slack con esempio così è chiaro c'è sempre una fase iniziale di lettura dei dati quindi le funzioni che abbiamo visto la settimana scorsa bene o male ci tornano sempre perché comunque non sempre i dati sono nella forma ideale e comunque qualche piccolo aggiustamento anche per andare a disegnare i grafici nella maniera corretta ci serve dopodiché devo ricordarmi di come andare a costruire un grafico abbiamo detto che dobbiamo andare a dichiarare quali sono i componenti quindi quali sono i dati qual è il mapping estetico e qual è il layer e questi sono i tre elementi che devo andare a sempre mettere ovviamente posso andare a aggiungere degli aspetti di scala che normalmente si pongono subito dopo il mapping estetico quindi vanno a prendere le variabili e decidono come andare a rappresentare questi variabili questo intervallo di valori su una scala che può essere una scala lineare fisica di posizione o una scala ad esempio di colori qui abbiamo usato una scala per l'asse Y qui abbiamo utilizzato una nuova estetica che è il colore e automaticamente vedete che mi è stata fornita una scala ovviamente io posso andare a definire una nuova scala che mi dice quali sono i colori ok vedremo poi la prossima settimana un po' di esempi di scale di colore e di altri tipi di scale per cui li posso elencare io oppure posso prendere una combinazione di colori che è utile e posso ovviamente aggiungere altri layer geometrici per cui in questo caso cosa ho fatto ho messo i punti e poi sopra ho messo le linee ho utilizzato il colore per andare a raggruppare occhio se avete una versione un po' più vecchia di ggplot non basta il colore ma dovete anche mettere il gruppo ok oppure mettete semplicemente il gruppo e il colore non c'è ok o posso utilizzare altri tipi di estetica qui ho messo boxplot che in funzione di un x di tipo discreto quindi non deve essere un number o un integer ma è l'anno interpretato come carattere come fattore in questo caso vado a mettere tutto il range di temperature per quell'anno c'è un modo di fare le linee del grafico più spesse sì una cosa che io non vi ho menzionato ma c'era nella lezione è che un altro aspetto importante è quello che si chiama il tema posso andare a mettere un team black and white ad esempio in cui invece di avere lo sfondo grigio del mio grafico ho uno sfondo di questo tipo oppure ho una serie di vari grafici quindi credo che sia line draw non so se questo più o meno non cambia molto a me vengono più spesse secondo me dipende tutto da come è visualizzato il grafico o dalla risoluzione dello schermo perché non non dipende da quello comunque allora posso utilizzare vari temi e posso andare a personalizzare alcuni aspetti dei temi quindi andare a mettere linee grigie più spesse più sottili di altro colore eccetera quindi tutti questi livelli di personalizzazione possono essere variati non ho usato nessuna impostazione particolare ma ho utilizzato un'impostazione standard quindi dipende sostanzialmente dal sistema grafico e dall'interfaccia grafica che uso io da sistema operativo più che da che da altri aspetti direi che con questo per oggi abbiamo chiuso obiettivo del laboratorio di giovedì sarà quello di ripassare un po' gli aspetti di analisi lettura tidying e trasformazione dei dati quindi con tutto il tidiverse e di fare qualche piccola visualizzazione sostanzialmente del tipo che abbiamo visto oggi l'obiettivo poi delle prossime settimane sarà man mano di vedere ulteriori aspetti per poter andare a personalizzare i grafici e andare a vedere altre tipologie di grafici che possono essere utilizzati il progetto il progetto è pubblicato già su su github e il link che vi ho messo la volta scorsa che adesso dovrebbe essere pubblico tanta volta non lo era e vi aggiungo ovviamente questo file al al repositori di tab domanda perché non prendere l'elenco puntato allora l'elenco puntato che io ho fatto da qualche parte qua adesso non lo trovo più prevede che ci sia una riga vuota dopo il testo quindi è possibile che sia quello quindi deve esserci la linea di testo normale uno spazio cioè una riga vuota e poi l'elenco puntato se non c'è interpreta quello come un trattino ok perfetto a questo punto non vi pubblico altre lezioni temporanee asincrone perché comunque abbiamo già visto tutto quello che c'era da vedere per la lezione per il laboratorio di giovedì vi pubblicherò un'altra lezione prima del prossimo fine settimana con ulteriori aspetti di personalizzazione di cui comunque discuteremo poi ancora lunedì prossimo in modo che man mano costruiamo su su questa base di tag diverse più ggplot con questo direi che per oggi abbiamo chiuso vi pubblico tra poco la diciamo l'esercizio intermedio da fare per insomma di approfondimento su su slack e intanto vi metto questo questo file sul repository git buon pomeriggio a tutti arrivederci per l'esercizio esercizio per l'esercizio esercizio Grazie a tutti.